E' finale per Jasmine Paolini, è finale per l'italiana e oltre a questo è anche posizione numero 16 nel ranking. Bene sì ragazzi, Jasmine Paolini si impone per 6-2, 7-6 su Cristea, vittoria su Cristea per 6-2, 7-6 da parte di Jasmine Paolini. Ed è ufficialmente finale del VT1000 di Dubai, quindi prima finale 1000 in carriera per Paolini e oltre ad essere la prima finale 1000 in carriera per Paolini è anche solo la quarta tennista italiana, se non sbaglio, a raggiungere una finale del VT1000. Non credo sia restritto questa statistica, magari, sto sbagliando, non credo sia finale per Paolini, batte un'avversaria tosta e secondo me è stata bravissima a ricomporsi e ricompattarsi dopo un tentativo di remonta di Cristea alla quale era già riuscito, nel senso l'ho formulato male con la frase. E' stata brava a respingere questo tentativo di remonta di Cristea che aveva già fatto contro Kokogov in quarti di finale, quindi brava, brava Paolini a vincere questa partita. E' stata una partita non semplice ma abbiamo visto una grandissima Paolini per un 7 e mezzo, una Paolini che sembrava intoccabile, che sembrava ingiocabile per Cristea per il primo 7 e mezzo, infatti era 6-2 e poi 3-1 avanti, 4-2, poi 4-3, poi 4-pari, poi 5-4. Poi è arrivato addirittura il break di Cristea, la quale è andata a servire per il set nel secondo parziale per portarla al terzo, però Paolini è stata bravissima a controbreccare e poi portarla a tiebreak. Tiebreak nel quale Paolini ha dovuto annullare un set point su 5-6, poi bravissima a vincere i successivi 3 punti e a questo punto portarsi a casa il set e anche l'incontro. E' stato un game, è stata una partita molto difficile, nel secondo set soprattutto, il secondo set è stata una maratona ma sappiamo tutti quanto Paolini mette al cuore nelle sue partite. Il game del controbreccare è stato qualcosa di titanico ragazzi, infatti ci sono state svariate opportunità di set per Paolini prima che convertisse il suo ultimo set point che alla fine l'ha portato a casa la partita, ma da altra parte ci sono stati anche svariati set point per la sua avversaria, di cui ce n'è stato uno su tutti i vantaggi, Paolini ragazzi ha dovuto salvare 1, 2, 3, 4 alla bellezza di 5. set point e Christea ha dovuto salvare dalla parte sua 3 set point, 4 set point, 3 dallo 0,40, 1 vantaggio esterno, poi alla fine però è arrivato il successo di Paolini ed è arrivata la vittoria di Jasmine Paolini in questo game e anche nel match. Quindi è finale, adesso stanno giocando Iga Shbiontek e Kalinskaya, stanno due pari, primo set quindi partita apertissima e ragazzi spero che vinca Kalinskaya perché ovviamente la partita con Kalinskaya sarebbe molto più fattibile rispetto a una partita contro Iga Shbiontek, ma credo che Iga non perderà, poi magari mi sbaglio e speriamo che mi stia sbagliando e speriamo che ci stiamo sbagliando perché credo che tutti voi pensino che vincerà Shbiontek, difficilmente Iga perderà visto anche il grande successo nel butti a mille di Doha, però non si può mai sapere. Ultima cosa prima di chiudere questo video che devo scappare, Iga Shbiontek ragazzi, scusatemi non Iga Shbiontek, Jasmine Paolini fa un balzo nei ranking pazzesco che lo porta alla sedicesima posizione, qualora dovesse vincere andrebbe addirittura quattordicesima, però essere 16 ti garantisce la testa di Serenislam 16 che significa non trovare avversarie fortissime, mettiamola così, o proibitive fino ai quarti di finale. Ragazzi da me è tutto, veramente io devo scappare a oggi, a stasera con un altro video perché stasera ne esce un altro, io adesso devo andare al papiere e sto anche in ritardo quindi dovrò correre. Ciao a tutti ragazzi, grazie mille del supporto, a dopo con un video, ciao!